Se consideriamo uno dei personaggi più famosi, influenti e importanti del genere, vale a dire Miles Davis, e la musica che ha creato nei quasi 50 anni della sua carriera, è davvero difficile riunirla o farla passare sotto una stessa definizione stilistica. Non solo, è stato quasi sempre un protagonista attivo delle svolte del jazz, non le ha mai subite con attitudine subina, le ha promosse in prima persona, oppure ha dato grande risalto con la sua figura prominente, a quanto stavano creando artisti emergenti. Grazie per la visione!